Importante novità per il commercio in Toscana è per una serie di prodotti che, non rientrando fra i beni essenziali previsti dal decreto governativo anti-Covid, non potevano essere più messi in vendita, né acquistati, né pure nei supermercati. Per venire incontro alle esigenze della popolazione, il presidente della regione Enrico Rosse ha emanato un'ordinanza che autorizza la vendita online oppure nei negozi rimasti aperti, compresi quelli di genere alimentari, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, nonché articoli di cartoleria come penne, quaderni, pennarelli, forniture per ufficio e giocattoli. Ma non è l'unica disposizione che riguarda le attività commerciali. Con la nuova ordinanza, i negozi obbligati alla chiusura potranno riprendere da subito le vendite attraverso promozioni online, in televisione o comunque a distanza, organizzando le consegne a domicilio o per corrispondenza. Basterà evitare contatti personali fra il venditore e la clientela al di sotto della distanza di sicurezza di 1,80 m e il rispetto delle norme igieniche sanitarie di tutta la filiera, dal confezionamento alla consegna.